Salve a tutti, sono Maurizio Pastacaldi, capitano dei Team College. Come ultimamente sono in compagnia dei nostri amati Misaki, queste esche letali per calamari in ogni momento della giornata. Dato che ai giorni inizierà la commercializzazione dei nostri Misaki, mi sento in dovere di suggerirvi le misure e in particolare come realizzare un semplice e funzionale calamento. Colmich, per accontentare le esigenze dei pescatori mediterranei, ha realizzato tre misure, la 5, la 6 e la 7 cm. Le prime due sono monoarpetta, mentre la 7 cm, doppia arpetta. Per ben capire l'utilizzo delle misure, è bene chiarire che i cefalopodi e in particolare i calamari mediterranei hanno un ciclo di vita di circa 12-18 mesi. In fase giovanile inseriranno quelle piccole esche, quelle da 5 cm per capirsi. Poi abbiamo fatto le 6 cm, che è la misura ideale, è un jolly da utilizzare tutto l'anno, mentre quando in età matura il calamari è grande, abbiamo bisogno di un doppia arpetta. Non tanto per la lamata, bensì per il recupero a bordo. Per quanto riguarda i colori, abbiamo fatto una vasta scelta. Abbiamo messo dei classici, come può essere un testa rossa o un maculato, abbinato a tante nuove tele. Che ho provato, hanno dato veramente dei grandi risultati. Ricordiamoci anche che i ricorpi dei nostri misakhi sono realizzati in gomma soffice e florescente. Lo schema tipo è che il colore rosso lavora bene in superficie, il giallo giustamente florescente è un universale, mentre il blu si adotta in profondità. Poi noi pescatori sappiamo che a ogni momento ha una sua storia, e quindi starà a noi nel tempo poter sfruttare e capire i migliori colori per la nostra zona di pesca. Per quanto riguarda il calamento, il nostro consiglio è di utilizzare sempre del fluorocarbo, che nel nostro caso è del SIGAR SICOL. Diametri dallo 0,20 massimo allo 0,26. Diametri maggiorati sono sconsigliati perché tendono ad essere rigidi e non dare quel nuoto fluttuante alle sky in pesca. Come realizzare un calamento? Noi consigliamo di montare il minimo 4 resche direttamente con un nodo dropper loop. Prendiamo il nostro artificiale. Ora, ho passato internamente questo filo colorato, però nella specifica utilizzeremo il fluorocarbo. Facciamo un semicerchio, una semiasola, come potete vedere, e giriamo uno, due e tre volte. Deve venire tipo una farfallina. A questo punto, inseriamo direttamente l'artificiale dentro la farfalla e tiriamo. Ed ecco realizzato il nostro semplice dropper loop. Vedete? Spero che questi consigli vi siano stati utili e alla prossima, come sempre, dal Team Colmidge. Ciao a tutti. Ciao a tutti.